La vegetazione aveva quasi ricoperto le lastre, segno che probabilmente sono state lasciate lì diversi anni fa. 20 tonnellate di copertura, quelle usate per i capannoni industriali, ma di amianto, che già aveva contaminato il terreno ai piedi del Parco del Conero, nella zona industriale di Numana. E' quanto hanno scoperto gli agenti del Corpo Forestale dello Stato che hanno sequestrato il pericoloso materiale. Le analisi dell'ARPAM avrebbero accertato che si tratta di amianto crisolito, una minaccia per la salute e per l'ambiente, tenuto conto inoltre che le lastre erano usurate e le fibre avevano già contaminato il terreno, sul quale è in corso la bonifica a cura di società autostrade che si è fatta carico anche delle spese per la rimozione del materiale, fa sapere il Corpo Forestale dello Stato. Sarebbe stata asportata la parte superiore del terreno, circa 15 centimetri. Ora le indagini si concentrano sull'identificazione dei responsabili. La Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo di indagine per abbandone, gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi, reato che prevede l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda fino a 26 mila euro. Non si esclude possa trattarsi di una ditta abusiva, fanno sapere i forestali, in grado di prelevare una quantità di materiale così grande senza poi lasciar traccia nelle comunicazioni contabili.